Il ristorante La Cambusa è situato nel cuore della Divina Costiera Malfitana. In una affollata sala consigliare si è tenuto ieri pomeriggio a Palazzo di Città di Cava dei Tirreni il convegno Penisalo-Sorrentina Malfitana dal Putta al Piano Paesaggistico, organizzato dall'Ordine degli Architetti della provincia di Salerno, con il patrocino del Comune di Cava dei Tirreni e con la preziosa collaborazione di CityLine, Associazione Liberi Professionisti Cavesi. Il piano paesaggistico adeguato al codice dei beni culturali del paesaggio consentirà di avere una visione del nostro territorio della penisola amalfitana sorrentina molto più attuale. Non neghiamo che il Putta ha avuto una sua efficacia e una sua efficacia soprattutto nei confronti della tutela del paesaggio, dell'ambiente della penisola amalfitana. Tuttavia il Putta risale a tantissimi anni fa. Adozione 87, ma come vedremo risale la sua stesura, risale addirittura alla fine degli anni 60. Per cui oggi sono intervenute nel nostro sistema normativo nuove leggi, c'è stato il terremoto, ci sono tutte le misure sul risparmio energetico, la liberalizzazione dei servizi, tutto questo rende indispensabile creare e redigere un nuovo strumento urbanistico di governo del territorio che dia intanto una risposta anche alla domanda di trasformazione della società contemporanea della penisola solentina amalfitana pur chiaramente garantendo la tutela dei valori del paesaggio e dell'ambiente del paesaggio che sono così importanti sia perché rispecchiano la nostra cultura e quindi la nostra storia, sia anche perché sono un fattore diciamolo pure importante, anche ai fini della competitività di un territorio che punta come il nostro sul turismo e sull'ambiente. Tutta la classe dirigente attuale, regionale, provinciale, comunale e anche molta della classe professionale non hanno la memoria storica di cosa è stato, di come è nato il PUT e di quale sia stata la sua evoluzione, quale sia stata l'evoluzione dei piani successivi e il condizionamento del PUT sui piani successivi. Quindi questa è stata l'idea, è stata quella di organizzare, di promuovere questo incontro per far conoscere la storia e dalla storia poi possono nascere le soluzioni anche. Dal momento che l'orientamento è quello di elaborare un nuovo piano paesistico tenendo conto delle omogeneità territoriali, proprio al vicepresidente dell'aggiunta regionale della Campania, Fulvio Bonavitacola, presente all'incontro, è stato strappato l'impegno per far sì che la città metelliana fosse una delle prime aree in Campania in cui saranno chiariti i vincoli paesaggistici esistenti, ovvero una delle cause principali che hanno ingessato la città in questi decenni. Il tutto, ovviamente, senza trascurare la tutela del paesaggio.